Bentornati in diretta a Ditola Roma 1. Allora, segnalazioni ogni giorno dei cittadini sui problemi di Roma, anche talvolta, meno male, sulle cose positive, ma poi siamo molto attenti in questa trasmissione, per esempio, alle vertenze sul lavoro, che siano piccole o grandi. Allora, di Alitalia, faccio un esempio, ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Adesso oggi leggevo che, insomma, c'era un'azione dei carrellisti, in particolare una forma di protesta. Altre vertenze le conoscete, faccio dei nomi, insomma, Almaviva, che è un'altra questione sempre molto calda. Noi oggi, invece, vogliamo dare spazio a dei lavoratori di cui si è parlato un po' meno, si parla un po' meno effettivamente. Allora, l'azienda si chiama Cei Timpianti. Loro sono qui, in rappresentanza ci sono due lavoratori e io ci terrei, insomma, che le persone ascoltassero questa storia, la loro storia, i loro dubbi e, se volete, naturalmente, potete anche intervenire allo 065910285. Allora, Carlo Coccia è anche rappresentante sindacale Cei Timpianti RSU. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Vicino a lei c'è Gianpaolo Frasca, un altro lavoratore della Cei Timpianti. Certamente. Grazie, buongiorno. Allora, partiamo proprio dalla base, no? Che cosa fate voi come lavoratori della Cei Timpianti? E da quanto tempo? Beh, diciamo, da parecchio tempo. Siamo tutti lavoratori che presto a poco siamo sul settore già da 30 anni, forse più che meno. Facciamo impianti negli appartamenti, impianti di ADSL, di telefonia, guasticao, insomma, tutto quello che riguarda, diciamo, il settore telefonico. Ecco, questo è il sito dell'azienda. No, lo facciamo vedere tranquillamente. Insomma, Cei Timpianti, costituiti nel 1989, eccetera, eccetera, insomma, il lavoro più importante per Telecom. Sì, per Telecom Italia, sì. Per Telecom Italia, che, voi dite, a un certo punto decide di utilizzare non più quattro, mi pare, ma tre aziende. Sì, diciamo di sì, perché noi, ecco, c'è stato detto appunto dall'azienda che ci ha chiamato a ottobre che sicuramente Telecom Italia non ci rinnova più il contratto che periodicamente, dopo tre, quattro anni, vengono rinnovati questi contratti a tutte le aziende che prendono gli appalti da Telecom e purtroppo a noi che lavoriamo nella zona Roma e dintorni del Lazio, in pratica Roma e Lazio, non ci rinnova il contratto. Quindi da gennaio, da gennaio sicuramente noi... Da gennaio, secondo l'azienda, che insomma è vittima, no? Lei stessa di questa situazione, si dichiara vittima, dice cari miei lavoratori, rischiate di rimanere senza nulla in mano, senza lavoro. Sì, volevo far presente una cosa, che questa azienda, la Cei Timpianti, forse sarà l'unica, perché per noi non abbiamo mai avuto problemi con questa azienda, è un'azienda sanissima, non abbiamo mai avuto problema in questi 9-10 anni che siamo con questa azienda, non abbiamo mai avuto problemi di stipendi, di altre problematiche. È un'azienda che fino a oggi viaggia tranquillamente con accordo, cioè d'accordo con i lavoratori... E infatti anche con gli altri committenti non c'è stato mai un problema. Da quanto tempo, no? Perché qui parliamo di 70 lavoratori a Roma, mi pare, no? E più 180, voi dite, come indotto. Indotto, esatto, esatto. Allora, vorrei anche far capire che età hanno questi lavoratori e da quanto tempo, poi, no? Perché poi il tema è, se l'azienda non riesce a trovare il modo di riconvertirvi, voi siete sul mercato, ma insomma non più giovanissimi. A una vera età, perché tutti i colleghi nostri... Frasca. Frasca, diciamo Paolo. Ci sarà, non so se più giovani, ci avrà 43-44 anni, fino ad arrivare a 56-57 anni di età dei più vecchi, anche perché nei vari tempi trascorsi, quando ce n'era l'occasione, la vicinanza, altre persone sono andate con degli scivoli, accompagnate verso la pensione, esattamente. E questo non varrebbe invece, non si potrebbe fare per voi, semmai? No, perché ormai siamo arrivati proprio, diciamo, anche perché le persone più anziane con il tempo vanno sempre via, no? Quindi prendono anche l'opportunità con tutto quello che sta succedendo nell'Italia, con queste problematiche... Di guadagnarsi la pensione già da tempo. Sì, infatti, quindi più uno ha la certezza di andare in pensione, più si avvicina alla pensione e quindi magari cerca di andare via. Boccia diceva, prima fuori onda, diceva 10 anni che lavora in questa azienda, ma nel settore da più di 35... Sì, io sono, diciamo, io sono dal 76 che lavoro con queste aziende. E quindi sono tantissimi... Quindi se l'azienda è sana, no? Cioè, la logica, secondo voi, qual è stata di scelta di Telecom, che ci piacerebbe, no? Fosse qui oggi, insomma, non c'è, noi parliamo con voi. Non si capisce. Qual è la logica? Perché qui non c'entra il processo... Io vi chiedevo questo, no? Ingenuamente, da profano della materia, dico, ma c'è il processo di digitalizzazione in corso? Invece voi dite, no, noi serviremmo anche in questo momento, diciamo, storico per le telecomunicazioni. Ecco, sì, infatti sta uscendo fuori adesso la larga banda, però siamo competitivi sul mercato. Non si capisce perché, diciamo, Telecom Italia ha voluto togliere da Roma e da Lazio un'azienda così tranquilla, che poi ha anche una garanzia, diciamo, Telecom, ma avendo una ditta del genere. perché noi come lavori abbiamo sempre, diciamo, fatto, anzi, abbiamo fatto più di quello che dovevamo fare. Siamo un'azienda molto sana, molto sana. Cioè, nonostante, ecco, è questa la cosa, perché se tu dici, hai lavorato male, come ha detto, hai fatto male dei lavori, e Telecom, tu vuoi dire, caro mio, non lavori bene, quindi è giusto che do il posto a un altro, no? Se andiamo per meritocrazia. Però siamo un'azienda molto sana in questo. Nei controlli che ci fanno periodicamente, non so se è messo in mente ogni due mesi, risultiamo sempre con i canoni che ci dice Telecom, che ci chiede Telecom, no? Nel fatto di lavorazione siamo bene, nel fatto che economicamente la ditta è sana, i fornitori vengono pagati, la gente sta tutta in piedi, lavoriamo tutti quanti, non c'è nessuna cassa integrazione. E' questo che, qual è il motivo? Invece, la prospettiva che avete davanti, se non succederà qualcosa prima, a gennaio è la cassa integrazione. Cassa integrazione. Per quanto tempo, tra l'altro? Eh, non lo sappiamo, questa è una cosa che va valutata quando ci sono le varie trattative e poi quasi sicuramente si andrà in una mobilità. Aspettate un attimo, allora, già arrivano telefonate, mi dice Clara Centilli, sentiamo chi c'è l'inia, buon pomeriggio. Pronto? Pronto? Dica. Eh, salve, sono titolare di un'azienda che praticamente lavora in subappalto per CET. Ah, perfetto, visto? L'abbiamo citati e sono qua. Dica, come si chiama, se vuole il nome, basta, o l'azienda? Come vuole lei? Però dica quello che crede. Pronto? Ecco, mi sente ancora? Io, ehm, Giovanni. Dica, Giovanni, che cosa vuol dire? Prego. Allora, senta, io ho lavorato con varie società, diciamo, di appalto che lavorano per Telecom. Sì. Certo, vorrei dire che praticamente io ho lavorato con molte società che appattatrici di Telecom, in subappalto. E adesso, trovandomi con CET, che è una delle società praticamente che è sana, diciamo, è sana sia economicamente che i pagamenti poi avvengono, diciamo, regolari, diciamo, emissione fattura a 40 giorni, mentre le altre società il pagamento avviene a 180 fino a mese dopo fattura. Aspetti, Giovanni, 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 aspetti, perché lei ha detto una cosa importante, no? Allora, in un momento in cui le aziende muoiono perché non vengono pagate, CET ha pagato sempre a 40 giorni piuttosto che a 180, quindi con beneficio di questo signore che a sua volta è un'azienda di subappalto. Ecco, questa è una cosa molto importante, no? Vedete? nel quadro dell'economia nazionale come no? Quindi, Giovanni, lei, come si spiega questa operazione telecom? Cioè, lei è contrarissimo, mi pare, di capire, no? Mi sente un po' male, però proviamoci ancora. Eh, c'è il ritorno, il televisore acceso, vabbè. Certo, io sono contrarissimo, proprio, sono contrarissimo al 100%, perché, diciamo, noi subappaltatori che lavoriamo per una società che ci paga 180 giorni, dovremmo avere una banca nostra proprio per andare avanti. Certo, non sai capire la banca. E poi, anche perché a questo punto tutti i tecnici, noi abbiamo spese di tecnici, spese di materiali, e quindi a questo punto non riusciamo proprio ad andare avanti. Io, infatti, se accette e non viene rinnovato il contratto, sono costretto a chiudere la ditta e mettere per strada 20 operai più tutte le attrezzature, ecco, quindi... Ebbè, quindi queste sono le ricadute a cascata, quindi fa parte di quei 180 dell'indotto, è proprio rilevante, cioè, il danno è proprio una cosa, infatti, come stava dicendo lei, è proprio una cosa cadena, è una cosa cadena che uno passa l'altro, quindi non si spiega questa... Giovanni, io intanto la saluto, l'abbiamo messo giù, credo, perché poi c'è questo ritardo, mi dispiace, noi siamo in diretta, facciamo il possibile, veramente lo fanno i tecnici, i salti mortali, però, ecco, poi se siete in queste condizioni, con il volume altissimo, lontani dal televisore, parlate al telefono, ecco, questo è, diciamo, il segreto, vado anche a far vedere uno dei vari articoli, qualcuno comunque si è occupato, di questa azienda, meno male, Corriere Comunicazioni, che ricorda i tanti interventi che ci sono stati, comunque, dalla politica, per esempio, Bianchini, che è il capogruppo del PD alla provincia, poi vedevo Bruno Astorre, vicepresidente del Consiglio regionale, la Polverini stessa, anzi, aveva mandato un'interrogazione alla Polverini, vabbè, quando ancora, insomma, come dire, no, governava, ecco, chiedendo questa audizione urgente a Telecom, adesso, ecco, poi tra l'altro si ricordava che la società da 20 anni si occupa di realizzare rete infrastrutturali, la Telecom non ha dato motivazioni chiare, questo dice, per esempio, Paolo Bianchini, e quindi si chiedeva un'audizione urgente, ecco, perché Telecom non fa questo incontro? Ci sta anche pregludendo tutta la visione visibilità, anzi, ringraziamo pubblicamente Roma 1 perché ci sta dando un modo di essere visibili a Roma, nel Lazio, e dovunque sia, e dovunque arrivi, perché comunque Telecom ci preclude la visibilità, abbiamo interessato, abbiamo dato notizia a tutti i giornali di Roma, la Repubblica, il Corriere della Sera, Messaggero, tutti quelli che c'erano logicamente oggi con internet e vai a dare, a cercare di spargere la notizia perché se ne parli, però nessuno... Secondo lei, insomma, pane al pane, lei dice, sono potenti, hanno paura di parlare, e staccheranno il telefono anche a noi, secondo me, questo purtroppo è un settore che magari... Verremo tosse a ripararlo. Sta facendo uscire tante persone, però, diciamo, è un'uscita diversa, un po' un'uscita covatta, nel senso che magari noi abbiamo più visibilità di Fiat, magari quando succede che magari escono fuori mille, duemila persone e tutto quanto, ma noi nel settore, a distanza di tanti anni, noi che lavoriamo con Telecom, ma a distanza di tanti anni, un anno magari chiude un'azienda sono 30, 40, 50 persone, un altro anno chiude un'altra 30, poi alla fine dei giochi arriva a un numero proprio molto superiore a due, tre mila persone, perché poi è una cosa nascosta. Ha capito com'è? Certo, certo, certo. No, no, abbiamo pochi minuti, però io vi faccio dire, insomma, dite quello che pensate è opportuno, che magari non abbiamo detto in questi primi 20 minuti, Che cosa pensate che sia importante far sapere ai telespettatori? Anche domani facciamo un'iniziativa, andiamo sotto a una delle direzioni diciamo più importanti di Telecom Italia, e facciamo una manifestazione sempre pacifica, perché noi siamo a corso d'Italia, e vediamo un po' un attimino quello che si risolve, se ci dicevono, quello che vogliono fare, purtroppo noi siamo disperati, siamo disperati perché queste cose avvengono non tenendo conto delle famiglie, oggi ci sono in Italia che non si tiene più conto delle famiglie, anche perché siamo 70, 200, 250, e rischiamo che niente, da un giorno all'altro con una ditta, ripeto, con una ditta sana che poche ce ne sono in Italia, perché con tutto questo problema che c'è in Italia, una ditta sana così debba morire, non si spiega, non si spiega. Deve essere accantonata in questo modo, sì, non abbiamo... Facciamo l'esempio di Coccia, Sì. Coccia, Coccia. Coccia. Lei, nella peggiore ipotesi, Ecco, da gennaio, che fa? Quanti anni ha? Io adesso a gennaio faccio 57 anni, ho 37 anni di versamenti, rischio di andare in cassa integrazione, quasi sicuramente in mobilità, perché tanto non troverò un'altra collocazione, perché non la troverò, perché a 57 anni penso che oggi... Però ha anche un grande know-how, una grande esperienza, no? Sì, una grande esperienza. Che cosa immagina di fare, no? Prima di mollare, insomma, farà dei tentativi, no? Voglio capire, cioè, sul mercato italiano, romano, esistono le altre aziende, ho capito, però... ci sono le aziende... No, le aziende... Purtroppo le aziende, già sappiamo che le aziende che ci sono, che rimarranno, già hanno problemi per conto loro, quindi sicuramente non assumeranno, quindi sarà una cosa morta proprio. Ci sono degli altri subappalti, però per andare agli altri subappalti anche loro non è che se la passano tanto bene, quindi io sarò uno di quelli che a 57 anni rischierò di andare in pensione a 66 anni senza aver preso nulla, perché poi dopo tanto non so quanto sarà una cassa integrazione o una mobilità, quindi rischierò di stare due, tre, quattro anni ma non ero mai arrivare ai 42 anni che posso avere per poter andare in pensione, quindi mi toccherà aspettare 66 anni senza stipendi e senza niente. E Gian Paolo invece che è più giovane, credo, no? È giusto? 53 anni e mezzo e con 35 prospettiva uguale andare a riempire i giardini pubblici probabilmente e a vedere a giocare a bocce no ma tra l'altro non l'ho detto in apertura ma insomma tutto ciò in un contesto che è quello della regione Lazio dove se non sbaglio le telecomunicazioni sono una delle voci principali il settore sempre stato strategico nella regione tanto abbiamo detto senza peri sulla lingua chi vi ha deluso di più a parte telecom che evidentemente finché non vi riceverà noi speriamo che questo accada anche nella politica insomma ma è la regione Lazio è capitato tutto questo in un momento pazzesco della regione ci contavate forse sulla regione? Sì contavamo sulla regione però purtroppo pure loro capiscono che sotto le elezioni sotto tutte queste cose qua sono tutti impegnati sì ti danno ascolto e tutto quanto anzi noi tanti personaggi li ringraziamo perché si sono proprio prestati però abbiamo sempre questo punto interrogativo dove andiamo a finire cioè chi è che ci dà una sicurezza non ce la dà nessuno oggigiorno un'altra telefonata e poi vi salutiamo sentiamone un'altra pronto? buon pomeriggio pronto? buongiorno buongiorno mi sente? bene a lei la sento bene dica dunque io io vedendo questi dipendenti diciamo che stanno in bimbo ma non sono solo loro mi domando come come a livello ministro il ministro Monti dove vede la luce che qui ogni giorno ci stanno dipendenti operai aziende che vanno in mezzo alla strada io domanderei a questo signore signor Monti e il governo tecnico e chi l'ha concesso dove vedono tutta questa luce come faranno a uscire fuori da quest'inferno io mi domando soltanto questo mi piacerebbe parlargli personalmente per domandargli diciamo dove vede tutta questa luce pronto? grazie 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 della sua riflessione Monti non l'ha mai detto come Obama dice il meglio deve ancora venire non l'ha mai detto c'è almeno questo però insomma ecco il signore dice qui veramente l'ottimismo zero l'ottimismo non c'è più poi certo dopo questi fatti che ti capi da una tegola così proprio da un giorno all'altro abbiamo anche un'audizione giovedì prossimo al presto del Campidoglio nella sala girocesare ci hanno permesso ci permette un onorevole mi sembra si chiama Fabrizio Astori no Fabrizio Astori no Fabrizio Astori Santori ci riceve ci fa esporre anche lì il nostro problema vediamo quello che riusciamo a fare insomma anche perché siamo disperati vediamo proprio un tunnel il buio vediamo perché nessuno si dà una risposta altra telefonata altra telefonata vedete poi carburano i telespettatori pronto buon pomeriggio pronto salve dica pure salve sento sono un un dipendente del settore telefonico e volevo appunto manifestare la mia solidarietà a questi colleghi della CET che in maniera così strana molto molto strana devo dire da parte di Telecom sono stati messi in condizioni di rimanere a casa di andarsi nei prati come diceva prima un ragazzo presente lì francamente è comprensibile io conosco questo mondo da tanti anni e proprio non riesco a capire il neso in questi momenti di difficoltà è facile poi pensare a attresche a situazioni imbarazzanti poco chiare lei dice cioè lei non ci ha detto che fa e non importa questo io non glielo chiedo però lei ci conferma perché io invece sono più sicuramente a digiuno rispetto a voi questa è un'azienda conosciutissima lei mi pare stia dicendo questo io questa azienda la conosco è un'azienda sana è un'azienda che ha sempre lavorato nel mondo della telefonia con alta professionalità è gente che non merita quello che sta quello che gli stanno facendo in questi giorni francamente non merita anche perché non si capisce il motivo per cui devono essere mandati a casa personaggi che per tantissimi anni hanno hanno lavorato a fianco alla telecom in tutto e per tutto e francamente non è troppo è troppo la osca la cosa in un momento così di crisi di difficoltà è facile pensare male la ringrazio ringrazio molto anche lei credo che la ringrazieranno voglio ringraziare molto gli ospiti grazie a tutti grazie a tutti che ci hanno che partecipano anche con noi anche emotivamente anche con il pensiero con la propria con lo stato ansia perché come diceva Carlo siamo sono sei mesi cinque mesi che siamo insomma ovviamente ci abbiamo son baratro a cui non si sa quello che c'è davanti posso dire proprio una banalità finale no? retorica lo ammetto ecco siamo tutti molto così attenti no? che funzioni il nostro telefonino il telefono di casa le nuove tecnologie no? corriamo a comprare l'iPhone 12 ecco allora pensate che tutto ciò non esisterebbe se questi lavoratori non ci siamo dietro ecco se non ci fossero dietro loro e quindi ognuno nel possibile insomma date la vostra vicinanza il contributo a questa vertenza lo stanno facendo molte persone ultima telefonata è la terza volta che lo dico ma che dobbiamo fare perché poi dobbiamo passare ad altro pronto? salve buonasera mi chiamo Federico Antonelli sono un subappaltatore della Sociedad CERIT bene e mi sono sentito diciamo coinvolto appunto nella vostra discussione diciamo che in questo momento contingente noi piccole imprese abbiamo fatto delle scelte importanti per evitare la riduzione del personale per avere delle garanzie per avere in qualche maniera la possibilità di portare avanti la baracca e una di queste scelte per me anche se forse sbagliata perché io purtroppo ho votato la mia azienda alla monocomittenza in quanto in tutte le altre committenze non ho trovato diciamo la tranquillità economica per poter andare avanti la mia monocomittenza si chiama CEIT CEIT è un'azienda non sorribile di più è quella che mi sta mandando avanti è quella che mi sta consentendo di mantenere quindi un piccolo numero familiare di 15 famiglie attualmente io sono nel terrore più totale perché fatto salvo i piccoli interventini a livello di lavori privati eccetera il mio 90% di budget lavorativo si svolge con loro io non capisco per quale motivo si debba portare avanti una diatriba di fronte e nei confronti di un'azienda seria perché è un'azienda che tutto ha meno che problemi economici in questo periodo ho capito quello che voglio dire è stato chiarissimo cioè lei ha detto io sono un mono ho deciso di fare un mono appalto perché loro mi garantivano la serietà nei pagamenti quindi la sussistenza della mia piccola azienda da 15 impiegati oggi operai oggi praticamente lei vede davanti a sé magari non il baratro degli ospiti qua però vede comunque un problema enorme perché poi gli altri se tanto mi da tanto è lo stesso è il medesimo è lo stesso è il medesimo perché io posso andare avanti solo e esclusivamente se riesco a continuare a lavorare con quella struttura non possiamo mettere fuori di casa i freddi e mettere dentro i carri c'è gente che si approfitta di certe situazioni contingenti ti paga a sei o otto mesi in un anno quindi io non riesco a capire sono abbastito e disperato grazie grazie noi vi ringraziamo auguri anche a lei ma guardate riparliamone volentieri insomma a breve domani lo ridiciamo chiudiamo così appuntamento domani appuntamento dalle otto alle due a Corso d'Italia sotto una delle direzioni di Telecom Italia magari lavorate da quelle parti avete sentito Corso d'Italia passate di lì fermatevi un po' con questi signori parlateci io vi faccio i complimenti guardate per una cosa veramente che colpisce cioè nonostante tutto cioè il contenuto di quello che stai dicendo è drammatico avete questo questo atteggiamento così bello così positivo che vi fa onore grazie grazie siamo Roma 1 per la ospitalità e di averci dato questa opportunità di parlare di questo problema problemone diciamo ne riparliamo in caso ok grazie allora lina alla regia abbiamo sforato ma va benissimo così in particolare stavolta ci vediamo tra pochissimo con altri argomenti ancora a dito la Roma 1